benvenuti in questa guida top 7 home theater di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo xgmi horizon proiettore supporta 4k questo proiettore xgmi horizon è una vera e propria oasi di intrattenimento domestico supporta 4k full hd ha una luminosità di 2200 ansi lumen e offre un'esperienza audio di qualità con l'altoparlante arman kardon inoltre è dotato di android tv marchio commerciale 10 punteggio 80 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo canton movie 2005.35.1 sistema il canton movie 2005.35.1 sistema home theater nero è un sistema home theater di qualità eccellente offre un suono nitido e potente con una gamma di frequenze estesa e una ricca profondità la configurazione è semplice e intuitiva rendendolo ideale per chiunque desideri godersi un'esperienza cinematografica di alto livello a casa punteggio 77 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo bintech r20 pro proiettore 3d con il bintech r20 pro è un proiettore 3d di alta qualità con messa fuoco automatica cinema all'aperto e home theater con batteria ricaricabile supporta la proiezione wireless 1080p 4k e android 9.0 home theater ottima qualità dell'immagine design compatto e portatile punteggio 84 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare samsung sund bar hw930 bzf con subwoofer la samsung sund bar hw930 bzf è una sund bar di alta qualità con subwoofer e speaker 9.1.4 canali 540 watt 2022 audio 3d wireless ottimizzato e effetto cinema surround home theater la qualità del suono è eccezionale con una gamma dinamica e una profondità di bassi incredibili punteggio 90 punti terza posizione nel nostro podio inseriamo yamaha home theater yht-4960 il yamaha home theater yht-4960 è un sistema di home theater di alta qualità offre un suono ricco e potente con una gamma di opzioni audio che soddisfano tutte le esigenze il design elegante e compatto si adatta a qualsiasi ambiente un'ottima scelta per chi cerca un sistema di home theater di qualità punteggio 85 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo bose lifestyle 655.1 il bose lifestyle 655.1 è un sistema home cinema di alta qualità la qualità del suono è eccellente con una gamma di frequenze estesa e una riproduzione accurata dei dettagli il bluetooth e l'app di controllo rendono la configurazione e l'utilizzo semplici e intuitivi punteggio 88 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica sony ht santa 40 r sund bar tv sony ht santa 40 r è un sistema home theater di qualità eccellente il suono 5.1 canali dolby digital è nitido e potente con un subwoofer cablato e speaker posteriori wireless che offrono un'esperienza audio coinvolgente facile da installare e configurare punteggio 92 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale